E vai, primo lancio della giornata, vediamo come va a finire, ci buttiamo giù in picchiata, oh cazzo ho aperto un po' troppo presto, chi è questo che spara? Oh fammi schivare, no è uno dei nostri dai, va tutto bene, almeno quando uno mi punta non mi ammazza, si ma ora che a terra il colmisto, chi è chi è guarda lì quanta gente che si muove, una testa, una sinistra, ci arrivo, ci arrivo? Sì, qual è vero, dai adesso vediamo, se mi muore, 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 è normalmente sparato, muore, mi stava guardando da un'altra parte, andiamo a se riusciamo a conquistare questa base, 2 a 0, 2 a 1 arriva a un'altra, dove è, dove è, dove è, adesso questa mi punta, 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 questa mammazza, dove è sotto, sì, porca va, muore, 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 2 a 1, ancora un'altra, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, sì, ma io c'ho un filo di vita, adesso mi ammazzano, adesso mi ammazzano, eccolo lì ti ammazzato, quello dove sei finito, maledetto, basci, non si dicono i pro lacci, anche se è un tedesco, fa niente, scusate adesso, adesso, dove sei, dove sei, questa sua sbuca, faremo ammazzano, lo so, lo so, dai, 2 a 1, 3 a 1, aspettiamo un attimino, vediamo se riusciamo a conquistare la base, senza morire, mamma che sbocco, secondo lancio, vediamo se siamo fortunati come prima, abbiamo il parere tutto al momento giusto, almeno questa volta, sì, dentro nella casetta diretta, va che ci dobbiamo anche i punti di XP, no, non è levati, sì, no, 3 a 1, dove, 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 3 a 3, qualche volta adesso beccano me, dove siete, dove siete, dove siete, dove siete, 3 a 1, vai, bravi ragazzi, ammazzateli, no, 3 a 2, 3 a 3, abbiamo, sono riusciti dall'aria, dove cavolo sono, dove, si, mori, 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 no, merda, mi ammazzato, mi ammazzato, mi ammazzato, mi ammazzato, mi ammazzato, io lo viene, guarda questo, dove si va a nascondere, carne morta, carne da macello, si sta curando, no, sta tirando la bomba, pover cattore, mori, mori, scappa, 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 è andata bene, qua dentro chi c'è, nessuno, 6 a 0, missilino, anche a te, bella lì, minchia quanta gente che c'è qua sotto, basta che tirano la bomba, siamo tutti morti, bella lì, e vai, mitica corsetta in bicicletta, alla conquista in bici, dai, chi è questo, dove, dove, dove stai andando, missile nel culo, boom, quanta gente c'è qua, minchia 4 contro 1, son da solo, il 더 stopio di la postazione in bici, non continui a usare larendza, Grazie.